Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi siamo qui per il fuck you time natalizio Prima di Natale ovviamente Fuck you time natalizio per modo di dire Comunque sia, se manca poco, mancano due giorni E finalmente sarà Natale ragazzi Spero che tutte le vostre richieste a babbo natale Siano state esaudite Spero che si esaudiranno presto E niente ragazzi partiamo subito con il fuck you time Con la prima domanda Allora la prima domanda me la fa Coscino Che ovviamente saluto Che anche lui è un mio collega youtuber Molto bravo Quindi se è passato anche nel suo canale E mi chiede Cosa ne pensi delle nuove console? Che voto daresti a PS4 e Xbox One? Bella Allora ragazzi Prima di tutto io direi Che le nuove console sono veramente ottime Sono veramente ultra avanzate In confronto alle 360 e alla PS3 Seconda cosa I voti che darei a PS4 e Xbox One Diciamo che sono entrambe Sul 8 Un console con un voto da 8 8 su 10 ovviamente ragazzi Perché forse Devono essere ancora migliorate Come sapete Le nuove console Quelle che noi otteniamo Sono delle beta alla fine Quindi dobbiamo Ricevere sempre gli aggiornamenti Da casa madre Che sarà Microsoft e Sony Per poter avere i miglioramenti Tipo di caricamenti E cazzate varie Dei giochi Delle migliorie Dei bug Di risoluzioni Di ogni casini Che magari Le console a lancio hanno Quindi per me Le console Sia PS4 Che Xbox One Sono promosse Anche a livelli di grafiche Giochi Titoli Sono veramente ottimi Ovviamente Io ho sempre un occhio di riguardo Perché Su Xbox One Ci sono titoli Che mi interessano Molto di più La seconda Me la fa Mattia Travi Curre Ma ti piace fare youtuber E fare i video con noi Sei un grande Ciao Bella Certo che mi fa piacere Fare i video con voi Altrimenti non li farei neanche Che cazzo di senso avrebbe Ah prima di tutto però È trovare il tempo È trovare Ovviamente Tutti voi collegati Adesso che ad esempio Sono su Xbox One È un po' difficile giocare con voi Visto che comunque sia Non è possibile Neanche parlare Insieme a voi Su Da One a 360 Sicuramente Molti di voi Hanno spettato il periodo natalizio Comunque sia natale Per potersi far regalare Una nuova La console di Next Gen Che sia PS4 Che sia One Quindi ragazzi Se avrò la possibilità Ovviamente adesso Mi sono accorto Che è molto semplicemente Che posso allungare il cavetto Dell'houpage E collegarlo anche alle 360 Quindi magari Mi ritroverete Anche su 360 Qualche volta Per giocare insieme Visto che Molti di voi Non sono ancora passati La Next Gen Veramente ragazzi Ho 5 amici Che hanno la Xbox One Vedrò di tornare Il prima possibile Anche perché Ieri ad esempio Sono andato un pochettino Su GTA Online Proprio perché Per vedere Per giocare un pochettino Con Bebbo Che non lo sentivo Da un casino Di tempo E mi mancava Comunque sia Fare la ronda Con lui Anche se ormai C'è gente A livello 170 210 Che infatti Ci hanno spaccato Il culo Col carro armato La terza Me la fa Italian Game Force Che mi scrive Qual è il video Di cui vai più fiero E beh ragazzi Mi piacciono tutti quanti Ovviamente Tutti i miei video Mi piacciono tantissimo Forse il video Per cui vado più fiero È stato Quello dei 1000 iscritti Ragazzi Perché mi sono reso conto Che veramente Molti di voi ci tengono Cioè Diciamo Quelli Diciamo che Ho ricevuto una grande risposta Da voi Nel video Mi piace Tutto Nei commenti E questa cosa Mi ha veramente Gazzato Per continuare Sempre Ma ragazzi Non è solo quel video Perché ho sempre ricevuto Un vostro supporto In qualsiasi video In qualsiasi Tipo di Di video Che ho fatto Sia che sia stato Un'opinione Sia che sia stato Un gameplay Sia che sia stato Un fuck you time Sia che sia stato Un vlog A partire Ovviamente All'inizio Ragazzi Dove arrancavo Un pochino Perché ovviamente Era l'inizio Siamo arrivati Veramente A 1300 Passi iscritti Ragazzi Questo Mi ha veramente Colmato il cuore Di gioia Sono veramente Contento Ragazzi Vi avete sempre Dato un supporto E forse Questo è stato Il regalo Di Natale Che vi avete fatto Rendemi veramente Contento Di ciò che ho fatto Su youtube Perché In 6-7 mesi Ragazzi Siamo arrivati A 1300 iscritti Sì saranno Molti dicono Che siano pochi Questi iscritti Molti dicono Che mi rimerito Molti di più Ma a me fa piacere Avere questi 1300 persone Che comunque sia Mi seguono Mi stanno accanto Nel mio percorso su youtube Spero un giorno Di poter crescere ancora di più E ti rendere orgogliose Molte più persone La quarta domanda Me la fa Filimastro Allora Vorrei venire a trovarti Per scambiare due chiacchiere Io e un mio amico Dato che siamo anche noi Di Cagliari Quale sarebbe la tua reazione Ti farebbe piacere Bella bomber Certo che mi farebbe piacere Ragazzi Ovviamente Mi troverete sicuramente Cioè per trovarci Anche Mi troverete sicuramente Al centro In centro Cagliari Poi In piazza Ienca Sette varie Ovviamente Ragazzi Mi trovate anche Nei negozi di elettronica Ogni tanto in giro Comunque sia La mia reazione sarebbe Molto positiva Mi farebbe piacere Conoscere anche i miei fan Magari quando ne avrò Molti di più Riuscirò a partecipare Magari a qualche evento Tipo Games Week Luca Comi Scazzate varie Mi farebbe molto piacere Conoscere persone Conoscere i miei fan Mangiare qualcosa con loro Prendere un caffè Insieme a loro Ragazzi Io sono Mi fa molto piacere Diciamo che sono Un ragazzo un po' timido Però Il fatto di Conoscere persone Che mi stimano Che mi apprezzano Ogni giorno Su Youtube Mi renderebbe Veramente felice Quindi Certo Mi farebbe piacere Conoscere anche i miei fan Sia di Cagliari Che dell'Italia stessa Che della Sardegna Che dell'Italia La quinta domanda Ragazzi Me la scrive Lollo Onga Curre Quale Call of Duty Ti è piaciuto di più? Beh Ragazzi Il Call of Duty Che forse Mi ha fatto apprezzare di più L'online È stato MV2 Call of Duty Model World Warfare 2 Ragazzi Forse è stato il titolo Che mi ha fatto apprezzare Call of Duty Perché Era la prima volta Che giocavo online Mi piaceva tantissimo La storia Forse i primi MV Ragazzi Sono stati i migliori Che abbiano fatto Il MV3 Ad esempio Non mi è piaciuto tantissimo È stato bello l'online Però la storia Non mi è piaciuta tantissimo Per come è morto Se non ricordo Mare Makarov MV2 Quindi ragazzi Resta il mio titolo preferito Della saga di Call of Duty Comunque sia Della Infinity Ward Finché non hanno cagato fuori Con Ghost Ovviamente ragazzi Perché su Ghost Ci sono delle mappe Veramente che sono fantastiche Io ovviamente A mio parere Non do la colpa Alla Infinity Ma do la colpa Ai giocatori Che sono Presenti online Perché sono veramente Delle merde Che non dovrebbero Mai giocare Perché ce lo trovo Veramente ragazzi Camper Schifosi Che io Ho una parita In tutti i contenuti Ho trovato Cinque persone Piazzate in degli angoli Andavo Andavo lì Mi uccidevano Comparivo da un'altra parte Mi muovevo nuovamente Trovevo un altro tipo In un altro angolo Che mi ammazzava Quindi ragazzi Mi giravano veramente I coglioni Rischiavo di spaccare Tutto in casa mia Quindi ho dovuto Staccare Giocare un pochettino A batte Fino di giocare Rise on from La stesta domanda Me la fa The Kebab Gamers Che bel nome Cazzo L'hai scelto benissimo Una figata Allora Quanti anni hai? Perché hai iniziato La tua carriera su YouTube? E cosa ne pensi Di Call of Duty Cyborg? Bella Allora ragazzi Io Ho 20 anni Diciamo che sono un po' Grandino Per fare video su YouTube Anzi no dai Diciamo che siamo lì In quell'età Giusto Forse mi sono svegliato Un po' tardi Per fare Incominciare a fare video su YouTube Comunque sia Ho iniziato la mia carriera Perché era una passione Che ho colmato Che ho coltivato Anzi Per vari anni Per 5-6 anni Prima di potermi Rendere conto Che esistevano Magari schede di acquisizione Che mi permettevano Di farvi vedere Gameplay online Di giochi Eccetera Di qualsiasi gioco E da lì È scattata Magari la scintilla Che mi ha fatto pensare A prendere Una hoppage Una scheda di acquisizione Quindi ho preso La hoppage hdpvr2 Che l'ho trovato in offerta A 154 euro L'avevo pagato Tipo 7 mesi fa E appena l'ho avuto Subito ho messo Il mio primo video su YouTube Quindi ragazzi È una questione Di interesse Se vi piace fare Lo YouTuber Non è solo Fare lo YouTuber È focalizzarsi Sui videogiochi E la cosa bella È che grazie a YouTube Conoscete persone splendide Io ragazzi Ho conosciuto altri YouTuber Vi ho detto Coscino Matterevolution Zad Sono veramente ragazzi Sono ragazzi come me Che hanno la mia età Magari sono anche più piccoli Qualcuno ha 19 anni 18 anni 15 anni 16 anni Ragazzi C'è Ogni tipo di 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 Niente Perché Alla fine L'interesse per i videogames È sempre lo stesso Se a uno piace E fa piacere Conoscere persone Che hanno gli stessi interessi Gli stessi gusti C'è Create un qualcosa Che infatti La community italiana Alla fine Dove si parla Si apprezzano i videogames Ovviamente Poi ci sono i casi singoli Dove ci sono casini Eccetera Di cui non voglio entrare Di cui non me ne frega un cazzo Ragazzi A me fa piacere Partecipare a questa community Che è sempre in crescita Poi ovviamente Ci sono aspetti negativi Di cui non me ne frega niente Io prendo sempre Gli aspetti positivi Di questa storia Perché Alla fine È il gruppo Che si viene a formare E le conoscenze Le persone che venite a conoscere Sono veramente persone Fantastiche Come vi ho detto Io ho conosciuto Tantissimi youtubers Che sono veramente Dei ragazzi fantastici E poi ovviamente Call of Duty Cyborg Cyborg Boh L'ho visto un paio di gameplay Ho visto anche su Wanya Che l'hanno pubblicato Quello dei Cyborgs È veramente una cosa Figa Mi dispiace soltanto Che non ci sia in Italia Quindi l'avrei voluta provare anch'io E invece non posso provarla Quindi mi toccherà aspettare Magari se un giorno La faranno Uscire anche in Italia C'è che lo dipende da subito Non so se Non so se solo per computer O se per altre cose Adesso dove in Cina In Giappone Non mi ricordo bene Però sembra molto interessante Come storia La settima domanda Me la scrive Pierre Folger Ovviamente lo saluto Perché io so che lui È uno dei miei primi fan Me lo ricordo E mi ha sempre Mi ha sempre supportato Vedo che Comunque sia commenta sempre È molto attivo E mi piace molto come persona Perché è veramente simpatico E quindi ti saluto Allora Curre Quali sono i giochi Che aspetti con maggior ansia Per Next Gen Aspetta anche Titanfall Se sì Cosa ti aspetti Da questo grande titolo Bella zio Allora Giochi che aspetto Con maggior ansia Per Next Gen Allora I titoli che mi interessano Di più sono Call of Duty E Butterfield Nuovi ovviamente E Butterfield Sicuramente uscirà Medal of Honor Poi Titanfall Ragazzi Titanfall è veramente Un gioco epico È l'unico che sto aspettando Veramente per Next Gen E spero che sia Un titolo epico Perché Mi sa che Diciamo che Il marzo-aprile Si baserà principalmente Su quel gioco Penso di esplorarlo al meglio E comunque sia Le aspettative per Titanfall Sono veramente alte Quindi io mi auguro Che sia un titolo Veramente eccellente Visto che Come vi ho detto Ha vinto ben 60 award Sull'E3 Di Los Angeles Quindi noi Non possiamo fare altro Che aspettarci Un titolo Della madoschia Domanda numero 8 Il tuo primo videogioco Eh ragazzi Quei è difficile Non mi ricordo bene Però se non ricordo male Il mio primo titolo Che ho giocato Forse è stato Age of Empire Non so chi lo conosce Di voi Ma è un titolo vecchio 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 Che parla di più che altro È un gioco strategico Dove create Dei vostre truppe Con tipo arcieri Sfighe Cazzate varie Cose Combattenti a cavallo Guerrieri Normali Ragazzi Tutto e di più Dove ovviamente Dovete distruggere Le altre popolazioni Dovete costruire anche Le case Le caserme Villaggi Tutte queste cose qui Forse è stato il mio primo gioco Se non ricordo male Jovenpire Jovenpire il primo Sì perché mia madre Diciamo che mi ha inculcato La passione per il pc Inizialmente Visto che a lei Le piaceva tantissimo Giocare su pc E aveva tutti i giochi Aveva il jovenpire Tomb Raider Ehm Non so se non mi ricordo Ragazzi Ne ho una marea di titoli Per il pc Ehm Quindi Diciamo che La mia prima esperienza Video ludica Sui giochi È stata su pc Poi ovviamente Mi sono trasferito a gameboy Con Con Si con Call of duty Con Pokemon e gli altri La 9 Me la scrive The Lost La Gamer Cazzo che è un nome difficile Quale gioco preferisci Call of duty Ghost Battlefield 4 E perché Allora Ovviamente Ragazzi Sono due titoli simili Ma completamente diversi Perché Perché Call of duty Ghost È un gioco più arcade Più divertente Più frenetico Mentre Battlefield 4 È un gioco Molto più strategico Molto Diciamo Non è strategico Al massimo Potete fare Qualsiasi cosa Che vogliate Tipo Potete muovervi da soli Come potete muovervi in gruppo La differenza è questa Principalmente Comunque sia Call of duty Ghost È il mio gioco preferito Nonostante ci siano i coglioni Camperoni di merda Ci siano i No i connessionati Non ci sono più Perché su One Non ci sono Su 360 Sì Perché ragazzi Perché Ve l'ho detto Io preferisco La modalità più divertente Più veloce Rapide Come Le partite che durano 5-6 minuti al massimo Così posso divertirmi di più E Giocare Fare molte più partite Fare molti più score Quindi è una cosa che Magari la preferisco E come ultima domanda Ragazzi L'ultima me la fa Sking 3 2 6 6 6 6 Con 4 6 Curre Quale joystick Trovi più ergonomico PS4 Xbox One Bella Eh beh ragazzi Allora ho provato Xbox One Ovviamente ho provato Xbox One Vaffanculo C'ho l'Xbox One Allora ho provato Xbox One È veramente un controller epico Soprattutto mi piace troppo Che in i due grilletti RT e LT Ci siano i pad vibranti Quelle cose Le rotelle vibranti Che vi rendono Diciamo l'esperienza di gioco Più figa Tipo su Forza Motorsport 5 Come vi ho detto Frenate Accelerate E sentite vibrare I grilletti Mentre su PS4 La cosa che mi è piaciuta molto È stato il touch Della PS4 Comunque sia Se devo scegliere Tra Xbox One E PS4 Preferisco Xbox One Perché ovviamente Sono abituato Alla sua fisionomia Come è fatto I due analogici Che si trovano Uno sopra e uno sotto Uno in alto a sinistra E un altro in basso a destra Quindi ragazzi Questo è Diciamo la mia preferenza Su Xbox One Ovviamente Perché sono abituato Da una vita Quindi ragazzi Da Cura 90 è tutto Spero che il Fak you time Vi sia piaciuto E come sempre Vi ricordo di scrivervi Commentare Mettere in viaggio Se ovviamente avete apprezzato Il mio video E noi ci rivediamo Alla prossima Quindi Ah E prima di tutto Vi auguro anche Buon Natale ragazzi Passatelo con i vostri familiari Con i vostri amici Cioè Capodanno Scoppiatevi di vodka Di quello che cazzo è Divertitevi Perché Capodanno Bisogna festeggiare E niente ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Quindi Bella raga